Cari cittadini buonasera e un saluto cordiale. Siamo in piena emergenza coronavirus, lo sappiamo tutti, ne siamo bombardati, ne siamo conscienti. Io prima di tutto in questo messaggio vorrei ringraziarvi, ringraziare il vostro senso di responsabilità che state dimostrando in forma crescente. Questo è un ottimo auspicio per cercare tutti insieme di uscire da questa situazione veramente che mai si era verificata e quindi naturalmente al mio ringraziamento aggiungo anche l'esortazione ad essere sempre più ligi a quelle che sono le prescrizioni che ci vengono impartite. Vi comunico nella fattispecie due servizi che abbiamo avviato come Comune di Vigonza. Il primo riguarda un importante servizio relativo ad aver attivato in collaborazione con la Croce Rossa italiana un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e medicinali per gli over 65 o persone diversamente abili o in difficoltà o impossibilitati a muoversi e privi dei familiari a cui affidarsi. Queste persone del Comune di Vigonza possono telefonare al numero 049 701 000 oppure al numero 800 65510. Vi ripeto i numeri 049 701 000 oppure 8000 65510 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e richiedere il servizio. La seconda comunicazione invece è relativa ad una ordinanza che abbiamo pensato di emettere in data odierna come amministrazione ed è una ordinanza che naturalmente è restrittiva, anzi non naturalmente è restrittiva perché abbiamo fatto con questa ordinanza, abbiamo previsto la chiusura dei percorsi ciclopedonali del Brenta e del Tergola, così pure il nuovo collegamento tra Perarolo e Vigonza ed inoltre tutti i parchi e le aree verde di proprietà del Comune. Comprendiamo benissimo che è una misura restrittiva ma è mirata a salvaguardare la salute di tutti quanti, quindi voi capirete e sicuramente accetterete disciplinatamente di adeguarvi a questa ulteriore restrizione nella speranza che tutti insieme essendo appunto come dicevamo prima rispettosi delle prescrizioni si riesca ad uscire quanto prima da questo tipo di situazione perché siamo sicuri che insieme ce la faremo. L'invito finale è sempre quello, restare a casa, uscire solo per estrema necessità. Con questo io vi saluto, vi esorto ad avere speranza, ad essere ottimisti tutti quanti perché insieme ce la faremo.